Tonfo di Fiat in borsa. I risultati della trimestrale, nonostante i profitti in crescita, mostrano un indebitamento netto salito a 6,7 miliardi. A metà giornata il titolo cede quasi il 4% dopo essere stato congelato per eccesso di volatilità. Secondo un'analista di Credit Suisse, la divisione auto è riuscita a bruciare 1,4 miliardi di cassa in 92 giorni. Il gruppo ha rivisto i target per il 2012 a livello inferiore dell'intervallo originario. Grazie per la visione!